Buongiorno da Edo, oggi è una puntata abbastanza leggera, ho un paio di cose che riguardano hardware, un paio di dispositivi hardware che potrebbero interessarvi, in coda una piccolissima cosa sulla programmazione front-end che vi segnalerò. Prima di tuffarci, quindi in questa puntatina, un caloroso augurio di pronta guarigione, o comunque di rimettersi presto, non è esattamente una malattia, ma Steve Wozniak, il grande cofondatore di Apple, l'ingegnere, proprio l'ingegnere dietro i primi Apple 1 e insomma i primi dispositivi di Apple, Steve Jobs era puramente del marketing e del prodotto, invece Wozniak era il vero ingegnere, ecco è stato ricoverato in Messico per un Ictus, però adesso mi sembra che si stia rimettendo, insomma sta bene, quindi un grosso in bocca al lupo a Wozniak che ha 73 anni, quindi insomma comunque ci tenevo a partire con questo augurio a uno dei pionieri dell'informatica moderna, quindi rimettiti presto, grande Woz, e ora andiamo con la puntata di oggi. Allora sì, parliamo di hardware e iniziamo con il lancio che c'è stato ieri di questo AI PIN, che è il dispositivo hardware innovativo, diciamo che nelle intenzioni di questa azienda che si chiama Humane, dovrebbe sostituire gli smartphone, quantomeno è il primo step in questa direzione, diciamo Humane è stata fondata da ex designer di Apple, che poi hanno raccattato un po' di altri ingegneri Apple, ingegneri Google, insomma gente che gli stava simpatica ovviamente, anche ottimi ingegneri con grande esperienza, insomma hanno creato questo dispositivo che si chiama AI PIN. Adesso io sono sul sito ufficiale di Humane, che è hu, quindi hu.ma.ne, umane, e c'è la presentazione di questo PIN, che è praticamente un piccolo, un aggeggino delle dimensioni di uno smartwatch, del case di uno smartwatch, diciamo, che però non si indossa al polso, ma si mette come clip alla maglietta, in pratica, ve lo appuntate al petto, ecco. Che cosa fa questo, questo coso che evidentemente non ha uno schermo, ma un piccolo proiettore LED, questo ha un microfono, quindi vi ascolta, quindi voi gli potete chiedere delle cose, per esempio chiamatizio, oppure rispondi a questa mia domanda, oppure leggimi le email, ecco, e lui vi risponderà con un suo audio, che potete anche collegare alle cuffie Bluetooth, oppure proiettando le informazioni su una superficie. E nella demo che hanno fatto vedere, proietta le informazioni sulla vostra mano, quindi voi siete in giro per la città, gli chiedete una cosa, e lui vi proietterà le informazioni sulla mano, comunque su una superficie, che voi potete controllare con delle gesture, quindi gesture della mano proprio, oppure con la vostra voce. E non ha un microfono che sta sempre in ascolto, ma bisogna premere sul suo touch, sulla sua superficie touch, e poi ci possono anche fare delle gesture sopra questa superficie touch per dargli dei comandi. E quando lui è in ascolto, accende un LED, quindi teoricamente anche chi vi sta di fronte, chi vi sta guardando, sa, o dovrebbe insomma capire, che questo dispositivo è in ascolto. Questo insomma un po' è quello che sappiamo di Humane, il sito ha un po' di demo, più che altro, di scenari, di utilizzo di un dispositivo di questo genere, che dovrebbe, ripeto, nelle intenzioni di questa compagnia, sostituire lo smartphone, o lo smartwatch, comunque un complemento. The Verge ovviamente ne ha parlato subito, anzi in realtà The Verge ne aveva parlato addirittura prima che uscisse la presentazione di Humane, aveva delle informazioni, comunque è un dispositivo che partirà da 699 dollari come prezzo, che per il momento immagino che sia solo limitato al mercato americano, perché non ho trovato informazioni sui mercati europei, anche perché questo è legato sia a una subscription che a un numero di telefono con T-Mobile, quindi per adesso diciamo che è molto legato al mercato americano. ed è appunto diviso in due pezzi, cioè questo pezzo frontale con il touchscreen e l'hardware, che poi vedremo che cos'è, e poi una clip magnetica che vi consente di tenere attaccata la maglietta e questa clip ha la batteria all'interno. Compreso, insomma, nel costo, bisogna considerare anche 24 dollari di abbonamento mensile a una subscription di Humane che poi vi dà anche il numero di telefono e insomma i dati che vi servono per far funzionare sia appunto le caratteristiche del dispositivo che anche per effettuare delle chiamate, insomma senza questa roba qua sarebbe abbastanza inutile. Cosa c'è come hardware dentro questo AI pin? Ah, naturalmente poi vedremo perché AI, ecco, dov'è la parte AI in questa pin? Comunque dentro l'hardware c'è un processore Snapdragon, quindi un Qualcomm, non è stato dichiarato quale processore c'è, comunque uno Snapdragon, e appunto si potrà comandare con la voce e con le gesture e anche una camera, una fotocamera. Con questa fotocamera, secondo appunto quello che dice la compagnia, si potranno riconoscere oggetti, quindi si può far riconoscere degli oggetti, addirittura si possono far dire le proprietà nutrizionali di un alimento, ecco immagino scannerizzando il codice a barra o qualcosa del genere, ed è una camera da 13 megapixel che può anche fare delle foto e potrà catturare dei video con un software update che arriverà. Vabbè, il device, il microfono si deve attivare manualmente. Ecco, allora, come funziona tutto questo? Ora che sappiamo che è questo hardware che ci risponde in modalità smart e si comanda con la voce o con il touch, bene, come fa a darci tutte queste risposte così avanzate? Bene, lo fa con l'intelligenza artificiale. Quale? Quella di OpenAI. Uain ha un accordo con OpenAI e quindi utilizzeranno i modelli, non si sa bene quali, si parla di GPT-4 ma non si sa bene quale modello, ecco. Quindi è una sorta di chat GPT integrato che intanto vi dà le risposte classiche che vi darebbe di chat GPT, quindi è un assistente, ecco, che vi risponde. Ma inoltre può fare delle cose, grazie ai modelli di OpenAI, legate al vostro contesto, quindi può fare un, che ne so, un riassunto delle vostre email, delle ultime vostre email. Quindi naturalmente dovrete darle accesso ai vostri dati sensibili, quindi alle email, può leggervi le email. Quando arrivano dei messaggi dalle app in ingresso, ve li può leggere e consentirvi di rispondere, quindi ha un text-to-speech, uno speech-to-text, insomma, prende tutto il buono delle ultime tecnologie di OpenAI che abbiamo visto anche nelle scorse puntate e le integra in questo device. Non ho capito benissimo se tutta questa roba qua funzionerà solamente in presenza di connessione o se avrà magari un modello, non credo perché, pare che la dotazione hardware sia abbastanza limitata, quindi non credo che ci sia un modello che gira, però magari c'è una versione molto ridotta, ecco, di un modello che gira all'interno in assenza di connessione, magari da qualche risposta minima. Può darsi che sia così, non ho capito onestamente. C'è un sistema operativo proprietario chiamato Cosmos che si occupa appunto di fare solo questo e di proiettare le informazioni sulla mano. Anche lì non so bene se il fatto di proiettarvi cose, testi o icone, ecco, sulla mano sia un'interfaccia così comoda, ecco, rispetto ad avere uno schermo di un cellulare da toccare o uno smartwatch. Nell'intenzione della compagnia, sì, è un'interfaccia ancora più intuitiva, ancora più comoda di quella di uno smartphone. Io, onestamente, non lo so, bisogna provarlo, ecco. E poi, naturalmente, non dimentichiamo anche le funzioni di translation, quindi di traduzione in tempo reale, sia del testo che del parlato. Ecco, questo potrebbe essere molto interessante, avere un dispositivo che vi traduce in tempo reale, in audio, tutto quello che vi dicono in altre lingue, sfruttando la capacità di traduzioni di OpenAI che sono molto buone, ecco, questo non è male. Non so se spenderei 700 euro per un dispositivo che fa questo, però devo dire che questo non è male. In realtà, lo possono anche già fare i cellulari, gli ultimi pixel già possono fare una cosa così, però è, diciamo, magari più scomodo avere il cellulare per fare questa roba, invece un dispositivo, un pin attaccato alla maglietta è ancora più comodo, ecco, ancora più veloce. Questa potrebbe essere una bella killer feature e, insomma, questo dovrebbe essere l'inizio di una serie di prodotti di Humane, appunto, dedicati a questa nuova interfaccia uomo-macchina comandata dall'intelligenza artificiale. Vedremo, io non so adesso come vederla, ecco, perché sono quelle cose che finché non provi è come la realtà virtuale, no? come fai a descriverla a qualcuno che non l'ha mai provata? Bisogna provarla, magari potrebbe essere davvero una cosa molto più comoda dell'interazione con lo smartphone, magari invece no, si spegnerà e scoppierà questa bolla. Vedremo, però è interessante, no? Oh, è l'altro pezzo di hardware che invece mi interessa molto ed è arrivato ieri, in realtà proprio dal nulla non si sapeva che Valve stesse lavorando a un nuovo Steam Deck, c'era qualche rumor ma insomma è tutto confinato nel contesto del chiacchiericcio, ebbene è arrivato davvero, con questo sito che è davvero sparaflescioso con un sacco di colori che vengono sparati negli occhi perché deve pubblicizzare la nuova killer feature di Steam Deck che è lo schermo OLED. Ora, non è un vero e proprio un nuovo Steam Deck ma è una versione ritoccata dello Steam Deck originale che appunto come feature primaria, principale ha uno schermo OLED mentre il prodotto originale aveva uno schermo LCD. Dopo è scontato che tutti sappiate che cos'è uno Steam Deck che probabilmente non è vero, vedete come una console portatile, ok? Come un Game Gear per chi ha qualche anno in più sulle spalle o un Game Boy molto grande insomma una console portatile con uno schermo il control e questo è uno schermo da 7 pollici insomma e il control è destinato ai videogiochi soltanto ai videogiochi è prodotta da Valve che è un'azienda che è il mega leader nel campo della vendita di videogiochi ha il marketplace digitale più grande del mondo quasi un monopolio perché gli altri che ci sono comunque ma hanno delle fettine piccole di mercato invece Steam che appunto il marketplace di Valve è proprio in pole position e poi produce anche crea alcuni videogiochi e qualche anno fa un paio di anni fa aveva lanciato questo Steam Deck questa console portatile la cui particolarità peraltro interessante per noi è che ha Linux dentro e infatti oggi se Linux su desktop ha recuperato terreno e ha innalzato le proprie statistiche molto è dovuto proprio a Steam Deck perché Valve ha parlato di due milioni di un milione e mezzo due milioni non mi ricordo di device venduti quindi sono milioni di device che girano con Linux sopra è una versione di Linux creata apposta da Valve basata su Arch Linux e a quanto pare funziona molto bene perché hanno creato un layer di compatibilità con Windows che si chiama Proton cioè è un praticamente un traduttore di API è qualcosa che fa passare le chiamate all'API di DirectX che sono le API 3D di Windows traducendo le chiamate in Vulkan che sono invece API che funzionano su Linux quindi voi fate girare dei videogiochi che sarebbero pensati per le API di Windows invece girano su Linux perché queste chiamate vengono tradotte poi arrivano ai driver di Linux e questa cosa funziona talmente bene che l'esperienza pare assolutamente nativa sulla maggior parte dei giochi poi ce ne sono alcuni che ancora non funzionano non funzionano bene ma la grande maggioranza del catalogo funziona bene mega pippone per dirvi che cos'è Steam Deck soltanto per dirvi che è uscito una nuova versione di Steam Deck che non è esattamente una nuova versione ma ha uno schermo OLED sapete che porta una serie di vantaggi notevoli rispetto all'ECD soprattutto nella definizione nella luminosità e nel contrasto e tra l'altro come vantaggio collaterale è anche quello di consumare meno perché avendo bisogno di meno illuminazione mentre l'ECD ha bisogno di una backlight quindi di una luce in fondo molto più potente ecco l'ECD OLED ha bisogno di meno luce e meno illuminazione quindi il consumo di batteria è inferiore ma hanno approfittato per metterci una batteria leggermente più performante più potente rispetto al vecchio modello e quindi queste due cose combinate fanno sì che l'autonomia di Steam Deck sia ancora maggiore quindi c'è una dichiarata un'autonomia maggiore del 30-50% che è notevole poi ci sono anche altri aggiornamenti piccolini ma che si fanno sentire per esempio il Wi-Fi 6E che ora equipaggia Steam Deck e anche una ventola ridisegnata più grande questa ventola che deve raffreddare naturalmente il dispositivo essendo più grande fa sì che sia meno rumorosa deve fare meno giri per spostare la stessa quantità di aria a una velocità inferiore tutto questo fa sì che la ventola sia meno rumorosa chi l'ha provato ha detto che è veramente così effettivamente si fa sentire molto di meno c'è un sul sito di Steam Deck e sullo store di Valve si possono già vedere prezzi caratteristiche adesso l'originale tra l'altro è sceso parecchio di prezzo quindi se eravate in cerca dello Steam Deck originale e non vi interessa l'innovazione dello schermo OLED potrebbe essere un buon momento per andarvelo a comprare perché la versione da 256 giga adesso ve la accattate a 419 euro e tra l'altro la versione da 64 giga quindi quella più piccolina che è anche ha anche delle caratteristiche inferiore a livello di componentistica a qualche cosa qualche cosa inferiore però fondamentalmente è la stessa macchina è sulla velocità dell'SSD che si perde qualcosina ma insomma la versione 64 giga ve l'ha portata a casa a 369 euro che per un device di questo tipo comunque mi sento di dire che è un ottimo deal ebbene gli OLED sono due modelli uno da 512 gigabyte e uno da 1 terabyte e quello appunto il primo costerà costa 569 euro e il secondo invece 679 quindi questi sono i prezzi non sono ancora disponibili arriveranno gli 16 novembre quindi fra 6 giorni potranno essere acquistati tra l'altro lo schermo è leggermente più grande perché si passa dai 7 pollici dell'originale ai 7,4 di questo perché quindi si riesce a recuperare qualcosina anche nello schermo e in più la APU quindi l'insieme di CPU e GPU che è prodotta da AMD proprio specificamente per Steam Deck è stata leggermente modificata io non ho trovato dettagli specifici su questa nuova APU dovrebbe essere la stessa architettura precedente quindi la stessa APU precedente ma il processo produttivo è cambiato prima era a 7 nanometri adesso è a 6 nanometri quindi questo dovrebbe portare anche a un consumo leggermente inferiore perché naturalmente sono componenti più piccolini scaldano leggermente di meno quindi il consumo dovrebbe essere inferiore e basta insomma tutto il resto è compatibile con le custodie e gli accessori di prima quindi è la stessa scocca diciamo con però queste piccole migliorie e lo schermo OLED tra l'altro se stavate aspettando un motivo in più per comprare questa macchina c'è un'edizione illimitata con la scocca la plastica che lo avvolge trasparente leggermente translucida ecco quindi che lascia intravedere anche l'hardware sotto che è meraviglioso un'edizione illimitata che è veramente meravigliosa si può vedere le circuiterie sotto vabbè è meraviglioso tra l'altro ah non ho detto per i più nerd hanno cambiato le viti cioè le viti che erano viti Philips sul precedente modello adesso sono viti Torx che conoscerete chi sa sa vabbè questa è la Steam Deck ragazzi ho un'ultima cosa veloce sul sito di Builder.io sul blog di Builder.io che è la compagnia che sta dietro a Quick abbiamo parlato varie volte framework frontend che fa della resumability la sua caratteristica principale la resumability è quel pattern javascript per cui tutto viene generato lato server al browser arriva l'html e basta zero javascript e poi quando l'utente richiede delle interazioni è che viene caricato quel pezzo di javascript dal server e l'esecuzione riprende esattamente da dove il server aveva smesso di farla quindi ecco perché resumability riprende l'esecuzione da un certo punto se realizzando insomma non sto ad entrare nei dettagli questo più o meno in 20 parole Quick va bene Astro invece altro framework recentissimo che invece fa della caratteristica principale le island quindi permette di avere dei pezzi dei componenti delle specie di container di componenti all'interno della pagina quindi una sorta di meta framework che può includere componenti anche da altri framework oppure web component e che invece sfrutta l'hydration quindi manda anche lui zero javascript al browser ma poi il javascript viene iniettato quando serve ecco questi due modelli apparentemente non sono compatibili no hydration e resumability ma in realtà qualcuno è riuscito a farlo funzionare insieme e sul blog di Astro trovate un articolo che si chiama Astro più Quick Houston We have Resumability così simpatico scritto da Jack Shelton che è colui che ha creato questo pacchetto che si chiama adesso ve lo dico at quickdev slash Astro e con questo con questo pacchetto potrete includere componenti Quick dentro Astro quindi se usate Astro perché vi piace la sua facilità d'uso la velocità con cui carichi componenti la possibilità di mettere anche componenti di altri framework all'interno di un sito ecco di un sito Astro ora potete farlo anche con Quick cioè potete mettere componenti Quick che quindi sfruttano la resumability e se vi piace questo pattern per la massima velocità possibile ecco potete unire queste due cose quindi la developer experience di Astro e la resumability oltre a altre caratteristiche fondamentali di Quick ecco possono lavorare insieme con quickdev slash Astro non vi direi altro andate a vi vedere questo blog post se vi interessa io ve lo butto lì secondo me è una cosa niente male ecco se avete magari un caso d'uso tipo un piccolo sito una landing page un sito statico oppure un piccolo sito di documentazione in cui caricare dei markdown con una piccola ricerca ecco mi immagino questi come scenari d'uso per adesso di un di un di un di un framework di questo tipo ecco però uniamo Astro e Quick che non è niente male e va bene ho finito oh questa settimana 5 su 5 è grandissimo Edo molto bene spero che vi siano piaciute un po' tutte queste puntate ho cercato di fare un po' di aggiornamenti di quello che capita nel mondo tech continueremo così anche la settimana prossima le prossime puntate quando ci pare ecco la settimana prossima in realtà un po' meno perché non ho tutti i giorni anzi forse ne ho pochissimi vabbè spero che non esca nessuna notizia importante così non ci perdiamo niente se uscirà pazienza poi qualcosa magari seguirò sugli altri social insomma qua sapete già come va va così non siamo eh cos'è alla prossima ciao